Ora apriamo nuovamente una finestra sul settore giovanile del Parma con la seconda giornata del girone di ritorno del campionato nazionale Serie A e B Under 18 sul campo sintetico di Genova Bolzaneto dove Genova e Parma hanno pareggiato 0 a 0, una gara molto bella al di là del risultato ovviamente giocata a viso aperto da entrambe, squadre che hanno individualità di spicco, un buon punto anche perché il Genova è campione di taglia in carica sebbene al momento sia tre punti sotto i crociati, dopo cinque vittorie consecutive dunque i ragazzi di mister Giovanni Valenti e del suo vice Simone Benecchi tornano a casa comunque con un punto importante e domenica altra gara di spessore contro la Roma Parma Under 18 che è terzo in classifica al netto ovviamente di alcune squadre che devono recuperare partite.